Il polpo non è l'unico obiettivo del club spagnolo. Secondo l'attestata iberica, infatti, il Real starebbe tenendo d'occhio anche Van De Beek dell'Ajax, per cui era già stata intavolata una trattativa la scorsa estate e poi mai conclusa, Fabian Ruiz del Napoli ed Eriksen del Tottenham. In casa atletico Madrid c'è da risolvere un problema, quello relativo all'attacco. I colcioneros hanno bisogno di un attaccante, per questo stanno cercando una soluzione sul mercato. Il club madrileno fatica a segnare, così Diego Pablo Simeone avrebbe chiesto alla sua dirigenza di rimediare con un rinforzo già nella sessione di gennaio. Secondo quanto riporta AS, il direttore sportivo Andrea Berta sta seguendo un paio di piste in Italia. La prima porta il nome di Christophe Piontek del Milan, possibile soluzione soltanto in prestito. La seconda invece, quello di Andrea Belotti del Torino, per il quale l'Atletico Madrid potrebbe mettere sul piatto 35 milioni di euro. Soprattutto nel caso dell'attaccante Granata, però, diventa difficile immaginare una cessione a campionato in corso. Chi è il calciatore con più minuti giocati nelle gare di club, prendendo in considerazione i cinque maggiori campionati europei dal 2010 ad oggi? Alla domanda ha risposto l'International Center for Sports Studies. Il calciatore con la maggiore quantità di minuti giocati è Lionel Messi. L'argentino è stato schierato per l'83,4% dei minuti totali giocati dal Barcellona nella Liga Spagnola. Scendendo nel dettaglio della Serie A, il primato spetta ad una vecchia conoscenza del nostro campionato, Mare Kamsik. Lo slovacco con 24.570 minuti in Serie A negli ultimi dieci anni e il calciatore con più minutaggio in quanto a partite. In casa Napoli è partito il casting per il nuovo allenatore. Aurelio De Laurenti si inizia a sondare il terreno per un'eventuale sostituzione di Carlo Ancelotti nel caso la situazione dei partenopei non dovesse migliorare. La prima ipotesi porta al nome di Massimiliano Allegri, già cercato nel 2014. L'ex tecnico della Juventus ha però più volte ribadito di non voler rincarichi prima di giugno. Forte è anche il nome di Luciano Spalletti, in questo caso però ci sarebbe da superare il contratto che lega il tecnico di Certaldo all'Inter e che ne ha già impedito il passaggio al Milan. Infine come terza ipotesi c'è Gennaro Gattuso, più volte associato ad altre panchine in questo inizio di stagione ma senza che nulla si concretizzasse. Non è però da escludere che nella lista di De Laurenti ci sia anche un misterioso Mister X. Sì. 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 Sì.